Credi in te stesso, anche quando gli altri non lo fanno, perché Dio vede tutto. Ecco, speriamo che Dio, se esiste, speriamo che non abbia visto come hai giocato ieri, perché sicuramente si sarebbe bestemmiato da solo. Le pagelle, signore, le pagelle, primo appuntamento con questa rubrica delle pagelle, ci sono quattro pagine di pagelle da trattare, forse le porterò ancora, non lo so, vediamo, deciderò col tempo. Fatemi sapere poi nei commenti se siete d'accordo con me, ditemi le vostre pagelle, che voto avreste dato a tutti i giocatori, eccetera, 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 cazzi e mazzi. Detto questo, cominciamo con i titolari. Vania, a Vania gli diamo un bel 4. Perché gli diamo un bel 4 a Vania? Gli diamo un bel 4 perché loro in tutta la partita di tiri in porta ne fanno 6, e ne entrano 4. Penso che sia stato abbastanza. Poi, d'altronde, non lo vedo mai uscire dai pali, non mi ricordo una parata sua, in tutta la partita non mi ricordo una parata sua. E direi che il nome, il soprannome Ergastolo gli si addice, visto che comunque non lo vedo mai uscire dai pali della porta. Mai. Ora, questo è il punto più difficile. E uno dei punti più difficili in assoluto. Perché non sapevo come dividere, ma alla fine ho deciso di prendere l'intero pacco difensivo, l'intero pacchetto difensivo, quindi 3 titolari, e si fermano tutti e 3. Tutti e 3. Non ce n'è uno che abbia fatto qualcosa di decente. Su tutti i gol la difesa è stata sempre assente. Non c'è stata una marcatura che ha tenuto, non c'è stato... Non c'è stato un minimo di lavoro sporco per cercare di spazzare il pallone. Loro entravano in area e facevano il cazzo che gli pareva. Costantemente. Senza essere marcati, senza essere tenuti. Sempre, costantemente. La difesa era come non averla. Era come non averla. Forse il peggiore, l'unico a cui potrei dare un voto un po' più basso degli altri, e Gigi, perché nell'occasione in cui Blaovic prende la traversa, Gigi dove cazzo è? Gigi dove cazzo è? Non c'è. In difesa c'erano Ilic, Scurs e Buongiorno. Gigi dove cazzo è? Ed è stato sostituito all'ottantesimo, all'ottantaquattresimo. Quindi dove cazzo stava lì? Vabbè. Singo, 2. Allora, non è il peggiore in campo, perché non è il peggiore in campo. Lo verrà dopo il peggiore in campo. Ma in assoluto è uno dei peggiori. Sulla sua fascia Kostic fa letteralmente il cazzo che gli pare. Lo salta sempre, viene sempre, viene costantemente saltato. Non copre Kostic, non lo riesce a coprire, non lo tiene. Non riesce a tenerlo minimamente. Anche se riesce a stoppare un qualche pallone che gli viene dato, il pallone viene puntualmente perso perché o viene pressato, o il pallone lo stoppa qui e lo manda a fanculo. Oramai, non so, non so sinceramente cosa gli sia successo a quel ragazzo. Sembra l'ombra di quel giocatore che l'anno scorso, anche volendo, prendeva e partiva sulla fascia, faceva il cazzo che gli pareva. Quest'anno, a quanto pare, non è così. Rodriguez, 4. Ora, il mio non è accanimento verso Rodriguez. Non è che qualunque cosa faccia per me è sempre merda, fa sempre merda. Anche se ogni tanto sarebbe effettivamente così. Anche perché in difesa, in difesa, leggermente la botta la tiene. Ma come esterno, come esterno, cioè, raga, fa veramente male. Cioè, è presente in una singola, è presente in una sola azione, in una sola azione offensiva in tutta quanta la partita. Quadrado sulla sua fascia fa letteralmente il cazzo che gli pare. Lo salta, lo risalta, lo dribbla, lo ridribla. Fa quello che gli pare. Quello che gli pare. Poi ha responsabilità sul gol dell'1-1. Ha responsabilità sul gol dell'1-1, visto che Quadrado lo doveva tenere lui. Quadrado lo doveva tenere lui. E invece Quadrado era liberissimo di calciare. Era liberissimo di fare il cazzo che gli pareva. Era da solo, completamente solo. Completamente solo. Ilic, 6. Forse è una delle uniche sufficienze che ci sono per me in questo... Nella partita di ieri. Fa il suo, sono le primissime gare che fa da titolare. Perché ha giocato da titolare contro la Cremonese, contro la Cremonese ha fatto bene. Ha giocato da titolare ieri sera. E ieri sera anche ha fatto abbastanza bene. Ha tenuto botta. E' sempre stato presente nell'azione offensiva. Si faceva vedere. Fa un assist a Sanabria per il gol del 2-1. Da applausi. Gli fa un assist da applausi. Poi nel secondo tempo, come tutti gli altri, cala. Come tutti gli altri cala. Però, ma almeno un minimo di propositività, lui continua a tenerla. Continua a tenerla. Cerca sempre di farsi vedere, di prendere i palloni. Fa quello che può. Linetti. Linetti un 5 e mezzo, ragazzi. Linetti, devo dire che ha fatto pure bene. Ha fatto pure bene. Cioè, per me... Per me, io gli avrei dato anche il 6. Però se non fosse stato che Illy ci ha fatto nettamente meglio. Illy ci ha fatto nettamente meglio. Non potevo dare 6. Eh... E 6 uguale. Non potevo dare lo stesso voto. Semplicemente fa il suo. Semplicemente Linetti fa il suo. Molte volte si limita a fare il compitino. Prendere la palla, tenerla, darla dietro. Molte altre volte, invece, si propone davanti. Si fa vedere. In un'azione dove sarebbe stato chiaramente in fuorigioco. Dove è stato fermato Mirancuk. Prima che potesse tirare a botta sicura. Altre volte, invece, poi con la traversa. Dopo che prende la traversa. Lì è stato sfortunato. Dopo un bel tiro a giro. Poi, dopodiché, niente. Si vedono altamente... Si vedono i suoi limiti. I suoi limiti tecnici. Si vedono e si sentono. Soprattutto quando a volte si perde e cerca di stoppare un pallone. Non ce la fa. Non ci riesce. Mirancuk 5. Ragazzi, ci sono partite dove Mirancuk riesce a risolverla da solo. E a essere determinante. E altre volte in cui averlo o non averlo non fa differenza. Ecco, la partita di ieri è stata quella partita lì. Si fa vedere alcune volte nella manovra offensiva. cerca di rendersi pericoloso. Ma molte volte è come un fantasma. È come un fantasma. Non c'è. Tenta un bel tiro a giro all'inizio del secondo tempo che sarebbe potuto tranquillamente entrare. Peccato che la palla è andata fuori. Dopodiché, fantasma completo. Forse se quel tiro fosse entrato, se quel tiro fosse entrato, forse il voto si sarebbe alzato leggermente. Ma non lo so. Coni-seconi, ma la storia non si fa, d'altronde. Caramo 6,5. Caramella di gran lunga il migliore in campo. È il migliore in campo. Caramo, l'unico che davanti alla loro area riesce a creare un minimo di movimento. Riesce a essere un minimo pericoloso. Si propone. Si propone. Cerca sempre l'imbucata per Sanabria anche quando Sanabria sta lì a guardarlo così. Lo guarda. A guardarlo e dire io che devo fare. Trova il gol dopo due minuti di gioco. E sinceramente il fatto che è stato sostituito io non lo comprendo. Sanabria 5,5. Ragazzi, Sanabria riesce a fare una prima metà di gara buona dove cerca di essere un minimo visibile anche qua nonostante nonostante quando c'è Caramo sulla fascia che cerca di cerca l'imbucata lui stia così molte volte a guardarlo come se stesse guardando l'estasi però comunque riesce a essere quasi sempre visibile fa un gol dopo fa un gol veramente da applausi Sanabria poi nella seconda metà di gioco fantasma fantasma completo non si vede più non si vede più non cerca neanche più di farsi vedere non cerca più il filtrante non cerca più il filtrante non cerca più l'imbucata insomma a me dispiace dargli un voto così dargli 5,5 mi dispiace però purtroppo è lo specchio della partita che ha fatto lo specchio della partita che ha fatto perché sinceramente il gol è l'unica cosa che gli ha salvato il gol è l'unica cosa che gli ha salvato poi del resto non ha fatto niente subentrata parliamo dei subentrati parliamo dei subentrati e qua arriva il peggiore in campo Radonic 1 allora io penso che non ci volesse il misero quarto d'ora che gli ha concesso Juric dove ha giocato tra virgolette dove ha giocato per capire che non è più quel giocatore che abbiamo visto in inizio stagione che cercava sempre di saltare l'uomo che cercava sempre di trovare le imbucate eccetera sinceramente lui è causa è una delle cause del gol del 3 a 2 di Bremer e soprattutto dopo il gol del 3 a 2 in quel quarto d'ora non corre cammina in campo letteralmente cammina fa la passeggiata come se stesse passeggiando per per un centro commerciale per i negozi tra l'altro Radonici è entrato al posto di Caramò sostituzione che non mi capisco non mi non mi spiego al 74esimo Ricci entra al posto di Linetti e Ricci prende 5 era chiaramente una sostituzione per fargli fare minutaggio sulle gambe chiaramente per cercare di averlo nella miglior condizione possibile per la partita contro il Bologna peccato che per la partita contro il Bologna non ci sarà visto che era diffidato e per un fallo idiota al novantesimo su Chiesa è riuscito a farsi ammonire quindi niente partita col Bologna e questo è diciamo che ha decretato un po' il 5 che gli ho voluto dare ora al 74esimo al posto di Radonici entra Dembasek che per me è senza voto perché è senza voto? perché sinceramente non so come valutarlo lui fa un quarto d'ora dove non si vede dove non si vede non tocca palla non gli arrivano palloni non fa non fa niente non posso valutare non posso valutare una prestazione di un calciatore se non fa niente non posso valutare la prestazione di un calciatore se non fa nulla e questo è il caso di Dembasek lo stesso vale per Voivoda che al 74esimo entra al posto di Rodriguez anche lui impalpabile non ha toccato una palla nel suo quarto d'ora è stato impalpabile non ha toccato palloni quindi non è possibile valutarlo sinceramente per me non è possibile valutarlo e all 84esimo esce Gigi ed entra Gravillon che anche lui è un senza voto signori è impossibile valutare un giocatore per 5 minuti letteralmente 5 minuti quei 5 minuti che ha giocato in quei 5 minuti ha fatto vedere qualcosa di effettivamente buono ma ribadisco sono 5 minuti sono 5 minuti e per me non è valutabile non è assolutamente valutabile Juric a me dispiace a me dispiace dargli 5 e mezzo però è dovuto la rosa purtroppo è quello che è e lui non ha mai nascosto il fatto che uno ci siano dei limiti tecnici evidenti a tutti e due che una rosa di cui non è soddisfatto sinceramente io non fatico a comprendere il cambio l'aver tolto Caramò che era l'unico che ti creava movimento davanti all'area era l'unico che creava pericolosità davanti all'area per mettere uno che per mettere Radonich che sono mesi che non sa come si controlla un pallone sono mesi e l'hai cavato e il cavarlo fuori subito dopo un quarto d'ora che ha giocato sinceramente non hai non è che hai fatto cosa non ti sei fatto per me non ti sei fatto vedere come un duro un come uno che ha la situazione in mano mi hai fatto soltanto vedere che nello spogliatoio c'è una pessima aria tira bruttissima aria semplicemente io ho visto cambiato e sembrerebbero confermarlo è stato perché ha giocato un quarto d'ora di merda la lite che ne è venuta subito dopo mi fa capire soltanto che nello spogliatoio le cose non vanno bene ora io mi sento di dover dare un voto anche alla società per me la società non si può dare un voto più alto dello zero una società che in 18 parliamoci chiaro in 18 anni è stata sempre assente le statistiche nei derby sono un qualcosa di rivoltante sono un qualcosa di rivoltante poiché su 28 derby giocati compreso quello di ieri 28 derby giocati le statistiche dicono che 22 li abbiamo persi 5 li abbiamo pareggiati e uno solo l'abbiamo vinto sinceramente sono statistiche da vomito per un derby hai fatto un calciomercato invernale che è stato più vomitevole rispetto al calciomercato estivo che è già quello non era stato il massimo poi abbiamo perché abbiamo un direttore sportivo che a momenti non riesce a concludere nemmeno le trattative con i giocatori svincolati abbiamo un presidente che dei tifosi se ne fotte tranne nel momento in cui bisogna spillargli soldi per prendere delle maglie limited edition che farebbero vomitare anche il peggior il peggior style art il peggior designer styler quel cazzo che volete e sì mi riferisco alle maglie limited edition che hanno fatto per i quanti anni ieri con Suzuki non lo so sono qualcosa di rivoltante in quel caso contiamo per quanto riguardano le nostre ambizioni non contiamo niente io non mi aspetto più niente tanto per me per quanto mi riguarda la partita di ieri ha dimostrato semplicemente perché la stagione doveva finire a febbraio e la stagione è finita a febbraio fine niente di più niente di meno non mi aspetto più niente